Si è tornati in zona gialla a Teramo, come nel resto dell'Abruzzo, zona che diventerà arancione, poi ancora gialla e poi non si sa. Sono i bar e i ristoranti a soffrire maggiormente di questo lavoro singhiozzo. Gli incassi non coprono le spese, i rimborsi stentano ad arrivare, ma le bollette delle utenze, quelle, sono sempre davvero puntuali. E allora c'è chi ha deciso di bruciarle in strada, come protesta fiscale e grido d'aiuto. Vi presentiamo Manuel Cerdelli, giovane gestore della nota Enoteca Senzio di Teramo. La sua situazione è simile a quella di tanti altri operatori nel settore. Che situazione state vivendo? Una situazione di stabilità e incertezza profonde, perché comunque non sappiamo effettivamente che cosa ci aspetta il domani e siamo anche poco uniti e poco coesi. La mia battaglia infatti è finalizzata a quella, non a farmi strumentalizzare politicamente o a schierarmi politicamente perché sono la persona più lontana dalla politica. Purtroppo in molti non hanno capito il mio messaggio, ovvero che se le persone si uniscono possono battere la politica. Invece c'è chi dice che per farmi propaganda personale o per farmi pubblicità mi sono schierato politicamente. A me non risulta, però hanno detto anche che ero rovinato e non potevo pagare le bollette. A proposito delle bollette, lei le ha bruciate, ma non avete avuto rimborsi in questi mesi? Allora, i famosi ristori sono stati pochissimi, inadeguati ai costi che ha un'attività. Ma io non sto lottando per avere i rimborsi, io sto lottando perché voglio lavorare. E se devi lavorare fino alle 18 non ha senso, perché il danno che puoi fare fino alle 18 l'hai fatto. Quindi se sei aperto fino alle 18, se sei aperto fino alle 22, fino alle 24, non vedo che cosa cambia. Cosa chiedete? Di restare aperti fino alle 22? Sì, possibilmente se si può fare anche dopo le 22, perché immagino che i miei colleghi che hanno ristoranti e pizzerie vogliono far fare la cena in maniera decente. Ma nel momento in cui si sta in sicurezza, stare fino alle 22, stare fino alle 24, non vedo dove sia il problema. Il gesto pubblico di protesta fiscale di Manuel Ciardelli, che ha bruciato le bollette davanti al suo negozio, è diventato virale. Matteo Salvini lo ha chiamato addirittura personalmente per dimostrargli la sua vicinanza. Altri ristoratori terramani preannunciano la stessa linea di condotta e c'è un'intera comunità cittadina, che è solidale con gli operatori di questo settore, particolarmente danneggiato dalla pandemia.